Allora ragazzi, che Scream sia un capolavoro, comunque un grandissimo film che ha fatto la storia del cinema horror e non solo, lo sappiamo. Quindi sono sempre accettate quelle pellicole che l'omaggiano, che comunque prendono spunto. Solo che se ti vuoi ispirare, se vuoi comunque ricreare un qualcosa di similare, lo devi anche saper fare, perché rubare al cinema è meraviglioso, prendere un'idea e farla propria. Il problema è quando si plagia, il problema è quando si cerca di fare un film copia carbone senza anima né cuore, cambiando qualcosa qua e là, ma facendosi assaporare un'ora e mezzo di minestrone riscaldato, bollente, che resta indigesto. Ebbene, questo è quello che succede nel film approdato su Netflix dal 25 agosto del 2023, il Club dei lettori assassini, diretto da Carlos Alonso Oea e scritto da Carlos Garcia Miranda, autore del romanzo omonimo del 2019 da cui il lungometraggio è tratto. In parole povere, ma con spoiler perché non ho nemmeno voglia di suddividere questa recensione in parte generale e parte rivelatrice, vi dico che il tutto si svolge in Spagna perché la pellicola è spagnola. Conosciamo gli otto ragazzi protagonisti appassionati di letteratura che si ritrova tutte le settimane, questo gruppo, alla biblioteca della città, insomma, per trattare, per commentare, per discutere dei libri letti. Hanno tutti da poco finito di leggere clown assassini, sono appassionati, si parla di clownofobia, quindi il terrore per i clown, fino a che la protagonista Angela viene molestata dal suo professore universitario, tant'è che i suoi amici decideranno di vendicarla, in che modo? Facendo uno scherzo al professore tutti vestiti da clown assassini, solo che purtroppo quello che doveva essere uno scherzo intimidatorio finisce in tragedia perché il professore resterà ucciso. Bisogna portare questo segreto fino nella tomba, insomma, è un po' so cosa hai fatto anche, ma è anche un po' urban legend, con la figura del professore che parla di folklore, che nel cult urban legend era interpretato da Robert Angland, il Freddy Krueger dei nostri cuori, insomma, bisogna portare questo segreto fino alla tomba, non bisogna dire niente, abbiamo ucciso una persona, quindi silenzio, facciamo un patto, solo che qualcuno ha osservato la scena. Chi? Forse un clown che si vuole vendicare in che modo pubblicando quotidianamente dei nuovi capitoli di un romanzo che sta scrivendo con protagonisti i nostri otto personaggi principali dove in ogni capitolo ognuno di loro morirà, quindi dovranno salvarsi la vita. Ed intanto c'è questo clown con una maschera che ricorda quella di auguri per la tua morte, per niente incisivo come personaggio, per niente spaventoso, per niente carismatico e i nostri proprio proprio scialbi, ma aiutatemi a dire proprio così sterili personaggi dovranno cercare di salvarsi la vita in un contesto dove non funziona niente, dove letteralmente ci troviamo ai limiti del plagio. Addirittura in questo film prevedibilissimo c'è una scena dove al ragazzo della protagonista, una volta che è riuscita a scappare dal killer che la inseguiva, cade la maschera di tasca. Io ero con la mia ragazza a vedere il film e ho detto vuoi vedere che adesso non ho fatto a tempo a dire gli cade di tasca che già gli è caduta la maschera e io ho detto hai visto è come Scream, quindi lì per lì ho pensato anche che il killer potesse essere il fidanzato per chissà quale motivo, invece forse questa è l'unica cosa che ho insomma giudicato male perché poi capiamo che il killer sia Sebastian, quest'altro ragazzo innamorato di Angela, ovviamente avevo subito pensato a lui, quindi per questo aspetto ho capito subito dove saremmo andati a parare, però credevo che oltre a Sebastian ci fosse anche Nando, quindi il ragazzo di Angela, invece poi scopriamo che un po' come in Scream 6 l'altra assassina fosse Virginia, quindi la prima uccisa un po' come Queen che in realtà non era morta o un po' come Roman in Scream 3 non era morta, era tutta una messa in scena ma in realtà non si sta parlando di Virginia bensì di Alicia, questa ragazza che Angela aveva conosciuto su un sito internet di chat anni prima, Alicia aveva raccontato la sua storia ad Angela, Angela ha scritto con nomi diversi quel che ha questa sua migliore amica perché nel tempo era diventata molto stretta con lei, molto intima con lei, ha raccontato la sua storia utilizzando pseudonimi, raccontando quindi di una madre che l'obbligava a leggere e se smetteva di leggere la picchiava, tutto ciò ha comportato un enorme problema nell'esistenza di Alicia dopo che ha scoperto che la sua storia fosse stata pubblicata e quindi capiamo che Sebas era il fidanzato di Alicia che voleva vendicarsi per il dolore che ha fatto provare Angela alla sua ragazza che poi è presa da un raptus folle, ha dato fuoco alla casa, tutti i libri, ha ucciso la madre e si è suicidata. Io sin dall'inizio ho detto vabbè gli assassini sono tre avevo pensato, Nando, Sebas, Sebastian e anche Alicia che poi scopriremo non essere morta. Ci avevo quasi preso perché alla fine l'unico mio errore è stato quello rivolto a Nando. Nando non è il Billy Loomis o lo stu maker della situazione, c'è solo una scena che vuole esplicitamente richiamare Scream ma proprio a mo' di plagio non è un omaggio, non è uno strizzar l'occhio al film, assolutamente no, è proprio plagio così come c'è una scena che richiama Scream 2 dove bisogna nascondersi dal killer che ti insegue in questa libreria un po' come Gail Weathers alla scuola di cinema. Quindi è un film che non ha niente di proprio derivativo e non c'è niente di male quando un film prende da altri, ci sono fior fior di filmoni che rubano da altri, anche il capolavoro Shining di Stanley Kubrick ruba da altri film ma un conto è quando, lo dicevo all'inizio della recensione, un regista, uno sceneggiatore sa prendere da altri e far propria un'idea, un conto è quando pari pari tu trasli ciò che hai visto nel tuo film e qua è un'ora e mezzo di totale ridondanza, annoia, i personaggi non sono minimamente caratterizzati ma vi ricordate Randy, vi ricordate Billy, vi ricordate Stu, vi ricordate veramente Gail Weathers, Linus, vi ricordate anche i personaggi meno importanti come Casey Baker, cioè in questo film nessuno ti resta in mente, sono tutti visi anonimi, non c'è la voglia di spaventare, non si prova mai tensione, non si prova mai un minimo di ansia, cioè ed il bello è che anche dei miei follower mi hanno consigliato questo film dicendomi guarda Paolo recuperatelo perché ha un po' di vibes alla Scream ma paragonare questo a Scream è come dire ti piace la Coca-Cola? Sì o bevi tu una pozzanghera? È la stessa cosa, cioè è proprio un film senza mordente, è un film dove si vorrebbe in certi momenti forse anche stupire con un po' di splatter perché c'è l'assassino che uccide a picconate ma effettivamente non ti resta niente in mente, i personaggi sono privi di carisma, sono privi anche di come posso dire quell'energia, quella simpatia che trovavamo negli storici personaggi della saga di Scream, ovviamente il primo su tutti, quindi non ti resta niente. Poi il bello è che il film vorrebbe anche essere un po' meta, un po' meta letterario per dire perché come in Scream si citavano gli altri film e quindi si faceva un'analisi sull'horror in un film horror, qua si vorrebbe fare un'analisi sulla letteratura horror ma senza riuscirci non si cita mai un romanzo importante, non si citano mai autori importanti, si vorrebbe parlare sul finale anche dei seguiti, dell'importanza dei seguiti per crossare forse ad un eventuale sequel ma senza basi, ma senza carisma, ma senza anche cognizione di causa, senza uno studio approfondito sulla materia, cioè se una persona guarda Scream può essere anche proprio inesperta in campo horror, però sente citare registi, sente citare delle regole che nell'horror esistono veramente. Qua invece si parla in modo superficiale di quello, di quell'altro, ma non c'è mai una, come posso dire, anche riflessione genuina, spontanea sul genere, non c'è mai una strizzatina d'occhio verso, che ne so, Edgar Allan Poe, tu vuoi parlare di letteratura horror e non mi citi Edgar Allan Poe, ma è come veramente se, non lo so, si volesse parlare dei più grandi horror della storia del cinema e non si citasse, che vi posso dire, l'esorcista, è come se non si citasse mai Shining, cioè in questo film tutto è abbozzato, ma come sono dei abbozzati protagonisti, cioè non è che finisce il film e dici, ok, magari in campo horror non è questo granché, magari la tensione non si è percepita, ma perlomeno c'è una bella analisi, una bella riflessione sul mondo della letteratura horror. Caspita, alla base, poteva essere anche un'idea intelligente, c'è Scream che illustra il mondo del cinema dell'orrore, abbiamo il club dei lettori assassini che illustra il mondo della letteratura horror, sono tutti appassionati di horror e sembra che nella vita abbiano letto solo quel libro marcio di clown assassini, ma caspita, siete appassionati di horror, ma citami Stephen King, ma citami che ne so, Edgar Allan Poe, ma citami Sbirulino, ma citami qualcuno, ma fammi capire che alla base c'è uno studio. La regia di Carlos Alonso Ojea è proprio misera, non c'è la voglia di creare, costruire paura attraverso la messa in scena, attraverso anche la fotografia di Pablo Diez, che resta proprio anonima per niente impressa. I protagonisti sono delle mere macchiette, ripeto, non che cercassi l'approfondimento, quello proprio al 100% e il background su ogni personaggio in maniera capillare, ma nemmeno che i personaggi fossero delle figurine. Anche la protagonista, la protagonista sembra un blocco di tofu, sembra un pezzo di formaggio, anche mentre fa l'amore con Sebas, sembra che Sebas lo metta dentro a una mela, cioè è ferma, è immobile. Poi c'è questa scena del montaggio alternato che poteva essere anche interessante, che mentre l'assassino uccide Nando, presumibilmente perché poi scopriamo non essere morto, nel frattempo Sebas raggiunge l'orgasmo. Poteva essere interessante se è ben sviluppato, però poi anche lì lo fai con l'unico personaggio che non muore. Forse tutto ciò serviva a depistare il pubblico appassionato di horror, perché il pubblico poteva pensare, come del resto pensavo io all'inizio, che Nando fosse l'assassino. Cioè tu ricicli, proprio ricalchi espressamente al 100% le stesse cose che faceva Billy Loomis, però poi il Billy della situazione è Sebas, proprio anche con i capelli allo stesso modo da cretino che gli vanno sugli occhi. Cioè nel senso, è proprio un film senza mordente, è un film che mi ricorda, com'è che si chiamava nel 2021, ne parlai anche sul canale, trovereste la recensione nel caso foste interessati, uscì un film, c'è qualcuno in casa tua, ecco, altra pellicola che voleva richiamare Scream, ma io mi domando e dico, sono contento è che Scream abbia segnato un'epoca, abbia veramente creato film derivativi, abbia creato veramente una sequela di pellicole che cercano di imitarlo, però ce ne sono alcune anche carine, pensiamo a So Cosa Hai Fatto, pensiamo a Urban Legend, cioè pensiamo ultimamente Christopher Landon, auguri per la tua morte, ancora auguri per la tua morte, ricordiamoci che Landon sarà il regista di Scream 7 e non vedo l'ora, però poi ci sono anche tanti di quei prodotti derivativi inutili, sterili, privi di senso, come C'è qualcuno in casa tua, come il Club dei lettori assassini, che poi anche il titolo non richiama, il Club dei lettori assassini, lo chiami clownofobia e sicuramente ispira molto di più, poi non so come è andato su Netflix a livello di visualizzazioni, però vi posso dire che io l'ho visto di pomeriggio al computer, su un letto con la mia ragazza e tutti e due ci guardavamo e dicevamo ma cosa stiamo guardando, cioè effettivamente è un horror che non spaventa, la trama non colpisce, è tutto già visto, i personaggi sembrano veramente inutili ma proprio c'è poi quello che pubblicizza, l'influencer che pubblicizza su Twitch il libro che sta scrivendo il clown e poi c'è invece la ragazza, quella facile, poi insomma tutti i personaggi che negli horror starebbero anche bene, io non è che stia lì con la lente di ingrandimento a dire questo va bene, questo non va bene, perché comunque i cliché ci sono anche nei capolavori, cioè il fatto che non si accenda mai una luce, il fatto che sembra che non esista anima viva e che quindi i protagonisti si ritrovino sempre soli di fronte al killer, su questo ci si passa sopra, ci mancherebbe, però ecco manca proprio anche quella spinta verso la sorpresa, cioè questo film potrebbe sorprendere chi non ha mai visto un horror, ma non lo dico in senso offensivo, chi non ha mai visto niente dell'orrore magari alla fine potrebbe anche dire caspita l'assassino era Sebas, caspita c'era anche Alicia ancora viva, chi non ha mai visto niente potrebbe dire wow, però ecco siccome magari tra di voi potrebbero esserci alcuni inesperti in campo horror vi dico recuperatevi uno scream, recuperatevi anche so cosa hai fatto da cui il club dei lettori assassini prende a piene mani lì con una macchina si investiva questo tizio che poi si buttava comunque nell'acqua e si pensava che l'avessero mangiato insomma gli squali però invece cosa succede il tizio è ancora vivo, arriva un biglietto a tutti i protagonisti che l'avevano ucciso per sbaglio so cosa hai fatto e tutti si cacavano addosso, qua invece non c'è nemmeno quella parte importante di trama relativa alla polizia che vuole investigare sul caso, in scream la polizia è fondamentale, qua sembra che si possa morire da un momento all'altro anche in questa università spagnola il giorno dopo si fa lezione, cioè un minimo più di credibilità, almeno fammi vedere che c'è un poliziotto uno, un poliziotto stronzo che dice qua c'è qualcosa che non va invece invece no comunque ragazzi che vi posso dire questo è il film non è nemmeno carismatica la maschera del clown ripeto se anche non fossero esistiti clown sarebbe stata la stessa cosa anche perché per assurdo nemmeno sembra un clown il killer sembra di più il viso del brucomela cioè non lo so con questo occhiolino chiuso comunque vabbè ragazzi io vi ringrazio per avermi seguito mi dispiace perché è sempre un piacere quando ci si vuole rifare a scream però qua urlo per un altro motivo cioè perché il film è veramente bruttissimo dura un'ora e mezzo meno male non di più però ecco ci potevano essere cose interessanti che magari un regista capace avrebbe saputo sviluppare. Io vi ricordo di farmi sapere la vostra nella sezione commenti nelle info potrete trovare tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social per abbonarvi al canale se deciderete di abbonarvi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana un caro saluto qua dall'isola d'elba noi ci vediamo ad un prossimo video e speriamo anche sulle piattaforme visto che ho un po di film da recuperare di trovare qualcosa di più bello e appassionante tipo per dirvi il nuovo film di guy ricci the covenant che ho visto essere uscito mi pare su prime e non vedo l'ora di vederlo e ne parleremo fra qualche giorno ciao ciao